Chiacchiere in pillola Paglia abbiamo visto i procedimenti per realizzare la tartare e da lì abbiamo tratto lo spunto perché logicamente restano un po' di avanzi In cucina Erika ci insegna se butta via niente ma si ricicla tutto e allora andiamo a vedere come possiamo riutilizzare gli avanzi della carne per la tartare Allora, in questo caso riciclo significa che la carne andrà cotta per ovvi motivi igienico-sanitari Quindi la carne la potrò tritare oppure quella avanzata prima già tritata Sempre col coltellaccio, ci hai già spiegato come per evitare Già vi ho spiegato, adesso velocizziamo un po' Quindi anche qui andiamo a tagliarla in punta di coltello come dicono di chef, ricordiamo poi il prezioso appoggio della coltelleria Eh sì, della coltelleria Valesio, degli amici che ci forniscono la materia prima Andiamo a rovinare questo Ecco quindi andiamo anche qui a sminuzzare la carne Perché da loro non solo si comprano ma soprattutto si rifilano che è fondamentale Ah e beh, poi penso per un cuoco quando hai coltello affilato Il coltello è importante quando è affilato Certo, quindi andiamo anche qui a sconsiglio il filo in casa Ci sono degli attrezzi per fare il filo in casa ma si distruggono I coltelli, quindi meglio portarli ai professionisti Se è un bel coltello, sì, se è un coltellino Quindi in caso andate dalla coltelleria Valesio che ci pensano loro che è meglio Sì, sì, bene, allora vi propongo un hamburger arricchito Un hamburger arricchito con delle verdure, quindi un piatto completo Perciò abbiamo visto la tartara, ai bambini no, però la hamburger con le verdure Perciò questo ai bambini sì Quindi mettiamo, prendiamo una bella zucchina Anzi scusate, cambio Cambiamo il coltello Porcellana ceramica per la verdura, così non si ossida Ah quindi è meglio il coltello in ceramica Sì, per le verdure è sempre meglio perché così non andiamo incontro all'ossidazione Ah, vedi che c'è il trucco anche qui Anche qui facciamo una, visto che facciamo un hamburger Quella che si chiama in termini tecnico brunoise La brunoise, quanto ci piace, mamma mia, questi termini francesi Cubettini, detto volgarmente in lingua nostra Ecco, come manutenzione è difficile il coltello in ceramica? Allora, bisogna essere un pelino più delicati Perché, ma non particolarmente Non crea problemi, benissimo Può essere lavato anche in lavastoviglie Purché appoggiato sul piano, ecco non deve sbattere Ah ok, se no troviamo il coltello in frantumi Sì Quindi anche il peperone mettiamo nella nostra Mettiamo del bel peperone tutto crudo Perché tanto andrà cotto Noi qui non possiamo, ma vi facciamo vedere La preparazione La preparazione, poi andrà tutto cotto Quindi a cubettini anche il peperone Qui intanto c'è un procumo, mamma mia Quindi un hamburger bello colorato Perché giustamente Avevamo anche dei funghetti freschi Degli champignons che avevamo usati per il decoro della tartare Se lo ricordo male Ah, e quindi si possono unire anche gli champignons Cioè proprio si butta via davvero nulla in cucina Io sono un amante del cipolla Ah, e quindi anche un pochino di cipolla Un po' di cipolla in cucina ci vuole Da sempre il giusto Vedo che tu utilizzi una cipolla rossa poi È più delicata La cipolla tropea è più delicata Se si lavora a crudo o con cotture molto veloci È la migliore, la più delicata Anche la più dolce Ah, ecco Ottimo questo suggerimento Sì, tagliata sottile Lasciata magari un po' in ammollo Può essere mangiata cruda Nelle insalate d'estate squisita Benissimo Allora adesso abbiamo fatto tutto questo Abbiamo fatto il trito Ciotola Uh, è bellissimo il mix di colori Davvero risulta un bel colpo d'occhio Possiamo anche aggiungere qualche spezia Del rosmarino ci sta benissimo E andiamo a tritarlo anche in questo caso Anche qualche fogliolina di salvia Anche questi li tritiamo quindi Tu poi ami moltissimo le spezie ci raccontavi Sì, le spezie ci aiutano Oltre a far molto bene Ma ci aiutano a A superire all'aggiunta di grassi e di sale Che nella nostra cucina purtroppo ormai abbondano un po' troppo Ah, quindi questo può essere anche un bel trucchetto Perché eventualmente volesse Un occhio alla linea in particolare Un goccio di olio d'oliva Ricordiamo l'importanza dell'olio d'oliva L'abbiamo già detto nella puntata sulla tartare Insieme alla dottoressa Tonello Pepe No, sale Sale questa volta Ah, quindi anche sale macinato al momento Anche usiamo così Non mi si macina bene Usiamo questo Che mi avevi detto erano di cristalli Questi sono di cristalli di sale bellissimi Se il nostro amico vuole farci un primo piano Sono veramente delle piramidi Ecco, mettiamoli sul guanto nero Delle piramidi di sale Mettiamoli sul guanto nero che così risaltano È vero Guardate che belli Proprio delle piramidi di sale Guarda tu la meraviglia Ecco che questi li avevamo usati la scorsa volta come decoro Sopra, poi mescolati Sono piacevoli perché poi hanno quel senso di corrompia Croccantezza quando vai a mangiare Ad esempio la tartare che è morbida Senti il croccante Senti il croccante Del sale Come facciamo a legare il tutto? Una bella mescolata Mescoliamo Qui adesso abbiamo ancora carne Quindi riutilizziamo davvero tutto Sì, qui ad esempio le parti grasse le possiamo usare Perché vanno cotte E quindi non creano più problemi E aumentano il sapore dell'hamburger Che poi oltretutto So che uno dei pezzi forti del tuo blog È proprio questa rubrica dove insegna Io riciclo Tutto e di più in cucina È partita dopo Natale perché Classici panettoni Con la casa piena di panettoni Adesso usiamo lo strumento più antico del mondo Le mani che tornano sempre buone Io vedo che tu sei attrezzatissima Però le mani Con le mani Si ottengono effetti insperati Ecco quindi andiamo a mescolare Adesso Quando ero bambina ricordo che vendevano un oggettino carinissimo Che era la macchinetta per fare gli hamburger Non l'ho più trovata Una cosa degli anni 70 Un cimelio in una casa Quindi ci adattiamo con uno dei coppa pasta Faremo un hamburger un po' alternativo Lo facciamo rettangolare stavolta Bello Anche perché così presuppongo i bambini saranno molto più Rettangolare, pardon Triangolare Quindi aiutandoci Tre in geometria Non importa Dieci in cucina che è quello che interessa a noi Quindi andiamoci ad aiutare con il coppa pasta Ricordo che questo piatto Questo dovrà essere cotto Quindi non lo possiamo fare di uno spessore troppo alto Perché se no mi si distrugna No mi si distrugge È difficile da gestire quando lo devo girare Quindi come spessore cosa teniamo? Lo spessore teniamo due dita Due dita? Perfetto Andopo si va a schiacciare tutto Si schiaccia il tutto In modo che faccia presa poi Qui sono stata molto leggera con l'olio Potete anche mettere un goccino d'olio in più Così lega meglio Lega meglio Ecco qui Andiamo a sformarlo Lo possiamo sformare volendo Direttamente sulla piastra Sulla piastra Consiglio per questo tipo di hamburger con tante verdure Di usare le piastre lisce Non le piastre grigliate Perché altrimenti si appiccicano e rischiamo di rompere Qui avevamo dall'altra puntata Degli ottimi carciofini crudi marinati Che sono un accompagnamento delizioso Un accompagnamento ideale Qui abbiamo messo veramente tutte le verdure Che potevamo trovare Poi anche la resa cromatica La resa cromatica E vi assicuro che poi Qui non possiamo cucinarlo Ma una volta cotto Il profumo del peperone Delle zucchine con la carne È un piacere E allora io lancio una sfida Voi a casa ripetete la nostra ricetta Cucinate l'hamburger Poi ci scrivete Oppure contattate Erika nel suo blog E diteci se l'hamburger di Cuocapaglia Vi è piaciuto o meno Erika davvero grazie Grazie a te Elisa Sempre un piacere essere qui Non ti chiedo quali saranno le sorprese della prossima volta Perché non voglio rovinarmi il palato Io voglio la sorpresa Sì sarà che sorpresa è E quindi chiacchiere e caffè continua A voi Ciao